Pacchi alimentari per 150 detenuti del carcere di Forni, un gesto simbolico che ha dato l'opportunità al comune di Salerno di poter esprimere vicinanza alla popolazione carceraria, dopo l'iniziativa promossa da Donato Salzano, militante del partito radicale non violento transazionale transpartito, che nei primi giorni di gennaio si era reso protagonista di uno sciopero della fame con l'obiettivo di dar voce al diritto degli ultimi tra gli ultimi e che aveva subito registrato la volontà del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli di dare anche a queste persone ristrette la possibilità di accesso ai buoni spesa, stamani si è dato seguito all'impegno preso. Una visita istituzionale al carcere di Forni è stata fatta stamani proprio dal sindaco Vincenzo Napoli, massima autorità sanitaria del territorio comunale, con una delegazione dell'amministrazione comunale ricevuto dalla direttrice del carcere Rita Romano, l'occasione per consegnare a 150 detenuti poveri del carcere di Forni pacchi alimentari con generi di prima necessità insieme a latte e formaggi. L'iniziativa nata dalla collaborazione tra Comune di Salerno, Curi Arcivescovile, Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Salerno, Banco Alimentare della Campania, si è svolta alla presenza tra gli altri di Paola De Roberto, presidente della Commissione Politiche Sociali del Comune di Salerno, Marco Gambardella, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno, Roberto Tuorto, direttore del Banco Alimentare della Campania, Donato Salzano dei Radicali, da tempo impegnato nella tutela dei diritti dei detenuti. Sopro della fame per ottenere ciò che viviamo oggi qui al carcere. Diciamo che questo è il prodotto della non violenza, questa è una giornata strepitosa, una vittoria strepitosa per l'intera comunità penitenziaria, come diceva Marco Pannella, che è fatta non solo di detenute e detenuti, ma anche dei detenenti, cioè coloro che lavorano qui e sono condannati alla stessa pena. È un pensiero particolare per loro. Ma tutto questo è dovuto alla lotta di 50 uomini e donne ex detenuti e familiari detenuti che si raccolgono sulla pagina Facebook di dove finisce la pena. Questa lotta è stata accolta dal sindaco di Salerno che ha fatto onore a questi lottatori che sono lottatori del diritto per il diritto. E noi saremo a fianco del sindaco oggi in visita qui all'interno delle sezioni proprio per tastare con mano qual è la situazione sanitaria. perché il sindaco è la massima autorità sanitaria in città. Con me ci saranno Fiorinda Mirabile della Commissione Giustizia del Partito Radicale, ci sarà Gianluca Mastrovito che è il presidente delle ACLI di Salerno, ci sarà Paola De Roberto che è la presidente della Commissione Politiche e Sociali. Sì, sicuramente è un'iniziativa di sistema a quale Confindustria Giovani ha voluto dare un suo contributo, un contributo importante. È un momento difficile, un momento che colpisce tutte le famiglie, soprattutto quelle più giovani e come diciamo sempre, se vogliamo ripartire, se vogliamo parlare di Next Generation Recovery Fund, dobbiamo pensare e partire tutti quanti insieme. Solo tutti quanti insieme possiamo ripartire non lasciando nulla e nessuno indietro. Ma è semplicemente un piccolo segno che vogliamo dare anche in questo luogo che per eccellenza è il luogo di privazione e quindi cerchiamo di essere vicino anche in questo momento storico a chi ha bisogno, come lo facciamo ogni mese con oltre 200.000 persone da quest'anno in tutta la campagna. È un'emergenza sanitaria ma sicuramente, come abbiamo avuto modo di dire, è anche un'emergenza alimentare e quindi per tante famiglie poter contare su una spesa mensile, quella che il banco fa arrivare nelle loro case, è sicuramente un segno di vicinanza e di speranza in un momento veramente complesso e difficile. Un'attività del Banco Alimentare che è aumentata notevolmente, soprattutto nell'ultimo anno, proprio con il legame del Covid. Quest'anno abbiamo superato ogni limite, ogni record, abbiamo distribuito in campagna 10.000 tonnellate di cibo e equivalgono quasi a 20 milioni di euro di cibo distribuito gratuitamente alle famiglie. Abbiamo iniziato l'anno scorso con 154.000 indigenti, da oggi ne aiutiamo circa 200.000, quindi vuol dire che la crisi si fa sempre più pressante e sicuramente le famiglie cominciano ad aver bisogno anche di un piatto di pasta.